Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Inmarcabili, weekend a due facce in Serie B nazionale per le nostre entrando subito diretti a bomba insomma in quello che è accaduto nello scorso weekend, si è rimessa in moto la general contractor Iesi che stavolta è riuscita a venirne a capo in volata dopo tante sconfitte, vittoria casalinga per 67-66 contro Sant'Antimo, quindi vittoria anche contro una squadra che appunto può essere annoverata tra le concorrenti dirette di Iesi, Iesi che ha trovato un grande Sena, anche Marulli molto incisivo con i canessi decisivi un po' tra il quarto quarto e il finale, è ovvio però che continuino a permanere i problemi soprattutto sotto canestro e non a caso le prime mosse iniziano a muoversi qualcosa diciamo in casa Iesi perché appunto è notizia dei giorni scorsi, l'arrivo per adesso in prova di Riziero Ponziani, giocatore di lungo corso insomma a livello di serie B, chissà che non cambi la struttura di questa Iesi perché è chiaro che sul banco di imputati c'è Lautaro Berra che a parte il guizzo della scorsa settimana è tornato un po' nell'apatia di questo inizio di stagione e che ovviamente una squadra come Iesi non può permettersi ovviamente di regalare di fatto uno straniero alle altri, per ora bene il risultato diciamo però insomma Iesi bel lontana dall'essere quella che vorrebbe essere Dalla panchina veramente poca roba esce in questo momento qua, sia in termini proprio di minutaggio con Ghizinardi che è andato veramente a rotazioni dai playoff, a rotazioni molto molto ristrette con gente in campo quasi 40 minuti, veri Petrucci insomma al di là di tutto alla ricerca di quella duttilità che tanto serve a questa squadra, è ovvio che se Berra è questo continua ad essere un problema, è veramente abbastanza spiegabile la metaborfosi dell'Argentina, insomma l'anno scorso Reduce da una stagione molto molto positiva, quest'anno ancora lontano parente di quel giocatore che abbiamo visto l'anno scorso tra l'altro allenato da un ex di Iesi, insomma quel cagnazzo che ha fatto gli ultimi anni di A2 e quindi sai Paglia, le rotazioni già così ristrette non sono un buon segnale, nel senso che comunque sia esce Valentini che ti dà tantissimo in termini di energia, in termini di difesa eccetera ma chiaramente non è uno score, Santiago Bruno ancora non è rientrato insomma dopo l'assenza di settimana scorsa se non vado errato, cioè che è rientrato sicuro, è comunque ancora abbastanza lontano dall'essere quel game changer che serviva, che l'anno scorso faceva così tanto bene, però anche lì l'anno scorso la squadra era molto molto lunga. Sembra chiaro che anche alla società che il problema sia la rotazione dei lunghi perché comunque Carnevale evidentemente non dà le garanzie che ci si aspetta da lui, pur essendo sicuramente un giocatore in B2 per me sarebbe un top player evidentemente ancora manca qualcosa, noi non lo vediamo allenarsi, ovviamente non siamo in grado di poterlo giudicare, però se berre questo, la duttilità, ripeto, la capacità magari di andare piccolo te la puoi permettere fino a un certo punto perché Petrucci comunque che potrebbe essere quello swing, ma insomma che adesso serve tanto, ha caratteristiche un po' diverse soprattutto nella difesa dei quattro e quindi ecco che Iesi è ancora un bel cantiere aperto, però intanto porto a casa una vittoria, una vittoria importante innanzitutto per il morale, per il come è venuta, comunque la partita alla fine è sempre un buon segnale vincere una partita punto a punto, vincere una partita dove sei stato per larghi tratti insomma avanti, ma sempre comunque con il fiato sul cuore degli avversari, quindi intanto sono due punti da mettere lì per provare a costruire qualcosa. Certo è che, l'ho detto la settimana scorsa, lo ripeto, per giudicare questa Iesi dobbiamo sganciarci totalmente dall'edizione dello scorso anno, perché? Perché il campionato è di livello superiore e perché questa Iesi è di livello leggermente inferiore, proprio come budget secondo me, ma anche come lunghezza del roster, come legittime aspirazioni. Ovvio che l'aspirazione è di provare ad entrare ottavi, ma l'allineamento dei pianeti in questo momento fa sì che sia un obiettivo abbastanza complicato, perché tante le pretenenti sono tante e corrono. Non sono così convinto della questione budget. però al di là di quello io penso sia più o meno simile a quello dell'anno scorso, ma non ho riferimenti in merito. Al di là di questo, che comunque è un'osservazione che poi lascia anche il tempo che trova, la mossa a Ponziani, è chiaro che tu quando vai ad aggregare un giocatore come Ponziani non è il ragazzino che ti aiuta ad allungare le rotazioni, è un senior vero, un giocatore vero. Poi possiamo parlare del fit, dei gusti, di quello che vogliamo, però insomma significa che lo vogliono vedere per vedere se eventualmente tesserarlo. Ed è chiaro che se si tesserà Ponziani uno diventa di troppo a livello numerico. Quindi a questo punto la riflessione potrebbe essere appunto su Berra soprattutto, perché è quello che obiettivamente ha fatto peggio fino ad ora, e magari a quel punto cambiare la conformazione della squadra, magari andare su un profilo straniero diverso, magari un quattro, magari un giocatore più perimetrale, perché poi quello che sta mancando tanto è a livello anche di creatività un po' fuori dagli schemi di questa Iesi, perché poi l'unico che ha quelle doti lì sarebbe Marulli, ma non possiamo chiedergli di cantare e portare la croce, insomma come si suol dire, e quindi poi le difficoltà vengono al pettine. Per ora comunque non c'è nulla di ufficiale, appunto Ponziani per ora è solo aggregato, vedremo se ci sarà la mossa nelle prossime ore, anche perché Iesi poi è attesa dalla trasferta delicata sul campo di Roma, una squadra che è partita male in questo inizio di stagione, che si aspettava di fare di più, un po' come Iesi, sono forse le due grandi deluse fino ad ora di questo girone, è partita che diventa delicata insomma per la general contractor. Anche perché da Roma i tifosi non è che proprio l'abbiamo preso benissimo, c'è già chi chiede la testa, sono tanti dell'allenatore, chi se la prende con Whelan, è come se ci fossero un pochettino anche dimenticati di quello che è stata comunque la cavalcata dell'anno scorso, una cavalcata che a un certo punto sembrava anche abbastanza compromessa, l'impatto col girone di B2 di cui parleremo tra un po' e il nostro è stato pesante per Roma e poi lo stesso Gaston Whelan gliel'ha risolta con un paio di giocate anche contro le nostre. Quindi come sempre il tifoso ha la memoria corta in generale, e questo purtroppo è una cosa tipicamente italiana di cui ne faremo volentieri a meno, ma tante squadra neopromossa, squadra che ha delle individualità importanti, squadra che è promossa e magari qualche mese di adattamento a campiato ne ha sicuramente bisogno, e quindi un periodo di fisiologico adattamento alla categoria, alle trasferte, all'organizzazione, eccetera eccetera, e quindi è un'occasione anche questa per Iesi da provare a sfruttare per mettere lì altri due punti che sarebbero molto importanti. Alla fine della fiera, guardando la classifica, però Iesi è di fatto solo due punti dietro a Fabriano, la classifica appunto è veramente fortissima, Fabriano che forse fa la prima vera scivolata di questo inizio di stagione, una sconfitta casalinga in attesa direi contro Cassino, in attesa soprattutto per l'Aristo Pro che abbiamo visto fino ad ora, sempre comunque molto brillante, invece Fabriano che a parte un buon inizio ha davvero sofferto a lungo i laziali, era finita anche sotto abbondantemente la doppia cifra, ha tentato la rimonta nel finale, la Janos, ma non è riuscita un po' a chiudere quel gap, partita decisamente sotto tono appunto, diciamo passaggio a vuoto in un inizio di stagione che resta positivo, però appunto la classifica, se andiamo a vedere, a livello, per quello che ha mostrato sul campo, forse è deficitale, la definirei Fabriano, è chiaro che è un po' ingeneroso per l'Aristo Pro, però il rapporto a quello che ha fatto vedere è sicuramente raccolto meno fino ad ora, Fabriano. Sì, il rapporto, abbiamo parlato di tanti rimpianti insomma, legati alle partite perse, che questa è, come hai detto tu, giustamente è la prima partita persa male, nel senso che in casa contro un avversario assolutamente rapportata, che per carità ha trovato una giornata buonissima di Fimoor Beck, che però, insomma, te lo aspetti in linea di massima, e a Fabriano è mancato completamente il reparto lunghi, se parliamo di rotazioni corte, anche qua siamo già in rotazioni da playoff, e secondo me questo è un discorso che vale veramente mai come quest'anno, secondo me, e anche ci vuole un po' di coraggio a tutti i livelli, anche B2 ne parleremo più avanti, di provare ad allungare le rotazioni, perché i campionati stanno diventando lunghi, stanno diventando impegnativi, le giornate sono tante, si gioca tanto, e rotare a 7-8 alla quinta-sesta di campionato che sia, diventa secondo me un lusso che nessuno si può permettere, in un campionato con la B1, con 8 infrasettimanali, o la B2, che comunque sappiamo bene essere un campionato lungo, perché due infrasettimanali, poi dopo c'è la seconda fase, eccetera, eccetera, la lunghezza delle rotazioni che tanto ha fatto bene l'anno scorso, Berigliesi, insomma, che ricordo benissimo, avevamo intervistato, mi ricordo se Nelson, o comunque avevano detto che volevano fare una squadra molto lunga, no? Memori dell'anno prima. quest'anno un po' al contrario, il tema delle rotazioni lunghe, secondo me, è un tema che ci porteremo dietro un po' tutto l'anno, cercare di trovare un modo di mettere dentro i ragazzi, che magari sono più indietro, sì, però anche quei 5, 6, 8 minuti, che ti fanno respirare il cent'anni di turno, il Pierotti di turno, eccetera, eccetera. Tornando alla partita, sicuramente è uno scivolone importante, sicuramente comunque è una Fabriano che continua ad essere molto produttiva dal punto di vista offensivo, sta mancando qualcosa dal punto di vista difensivo, perché manca qualcosina, libero di pressione sulla palla, lascia stare, come ti posso dire, la coreografia, le difese allungate, tutte queste cose qua, mancano poi i momenti in cui bisogna tenere uno contro uno, e i parziali insomma a cavallo dei due quarti sono indicativi sia del quanto Fabriano possa far bene in attacco quando si accende, soprattutto quando si accende Pierotti, o Simone, ovviamente, sia quanto Fabriano possa migliorare difensivamente. Anche l'impatto di Gniecchi quest'anno difensivamente è un impatto un pochino diverso, cioè da lui mi aspetto di più, perché è un giocatore per la categoria, secondo me, assolutamente di altissimo livello, c'è da lavorare, c'è da lavorare, specie perché, ripeto, rischiamo di essere, come posso dire, ripetitivi, però questo è un girone che non si è mai visto negli ultimi anni. Talento c'è ovunque, dappertutto, e se tu molli anche un attimo, anche con la squadra che è attualmente ultima in classifica, rischi grosso, perché talento ce n'è veramente tanto e ben distribuito. A distanza di due anni, Paia possiamo dire, e adesso introducendo anche il discorso di Serie B, sicuramente un livellamento a livello di campionati, c'è stato complice il fatto che chi è salito, chi voleva salire, è salito, i primi di turno, adesso manca Roseto fondamentalmente, e poi più o meno, la Montecatini, più o meno, siano tutti, e sia B2 che B1, sono veramente dei campionati stralivellati, dove l'equilibrio regna sovrano, dove ogni domenica c'è almeno un risultato che dici, ah però. Fabriano che però non ha sicuramente la miglior partita per rialzarsi, perché a te si è in trasferta sul campo della BL Livorno, una delle big designate, anche se qualcosina ha lasciato giù fino ad ora la squadra toscana, però sicuramente trasferta impegnativa su un campo a dir poco torrido, per usare un eufemismo, non sarà facile, ma comunque per la Fabriano, che almeno a livello qualitativo abbiamo visto finora, partita che sai mai, insomma si potrebbe anche andare a pizzicare, diciamo. Parlando invece di serie B interregionale, serie B interregionale che resta comunque sempre molto equilibrata, non c'è nessuna squadra imbattuta, e non ce n'è nessuna a quota zero, perché appunto si è sbloccata anche Teramo, battendo in casa Bramante, tenendola peraltro a 43 punti, una partita che probabilmente, io non l'ho vista, non penso sia stata scintillante, però insomma comunque segno che anche quella che è sembrata la squadra per averne un po' di meno rispetto alle altre, comunque può fare qualche scherzo. Per il resto comunque partendo invece dalle big, Reganati ha ripristinato la betta solitaria, sfruttando in primis lo scontro diretto con Baldiceppo, con una vittoria ancora una volta autoritaria, soprattutto in casa, Reganati comunque continua a produrre ottime partite, scivola però anche Civitanova, Civitanova che cade sul campo di Matelica, di Matelica come abbiamo già detto più volte, cantiere in corsissimo, ma è arrivato anche Giacomelli Antonio a rimpolpare ulteriormente le fila della Vigor, che perderà per tre mesi circa Emanuele Musci, e quindi almeno numericamente ora manca solo Zanzottera, e appunto con la vittoria su Civitanova, tanto la classifica più o meno è sistemata, perché appunto adesso la Vigor è a meno due, dalla capolista Reganati, ovvio che Civitanova da questa partita non esca assolutamente ridimensionata, anzi un'ulteriore conferma di quanto bene stia facendo questo Mizzoli con una squadra partita fuori spenti, diciamo. Continua a mettere in mostra sto Fofanà che adesso dico una roba, è brutto da morire da vedere giocare, oggettivamente tanti palleggi, poco tiro da fuori, poco gioco all'europea, come lo chiamiamo noi, nel senso magari di sistema, di close out, però la fine della fiera produce in una maniera impressionante, c'è una fisicità debordante, e ne parlavo, ormai ne parlo quotidianamente con tutti gli amici, colleghi che sento, mai come dall'anno scorso si è resi conto che, e secondo me questo è un tema che affronteremo dopo, anche quando parliamo di Loreto Pesaro, la fisicità, l'atletismo in questo campionato fa la differenza. la B2 è il campionato dove gli atleti, se ne ha i due, tre, quattro, sopperiscono e rischiano di far meglio anche della squadra con magari talento e conoscenza del gioco. Poi c'è Recanati, che gli atleti oggettivamente, nel senso proprio fisico, verticale del termine, non ne ha molti, però ha dei corpi importanti, da cui soprattutto Urbutis, ma lo stesso Simone, Semprini, e dei giocatori talmente forti in termini di conoscenza del gioco che stanno veramente, meritatamente, come ho sempre detto, in testa al campionato. Materica, cantiere stra aperto, la certezza si chiama ovviamente Lorenzo Panzini, e su questo di dubbi ce ne sono veramente pochi, i giocatori che con la B2 c'entra zero. Zanzottera avremo piacere tutti di vederlo, in realtà io personalmente se non vuole arrivare quando ci giochiamo noi, visto che per me manca 4-5 giornate, a me va bene, poi ci rivediamo eventualmente al ritorno, ma vedremo. Vediamo, stava facendo quello. Non è un problema, però, credo che Trullo lo voglia vedere, insomma, in maniera che anche il ragazzo abbia voglia di giocare. Abbastanza ingiudicabile questa roba che è successa, perché comunque, arrivare alla quinta di campionato senza il giocatore più forte è oggettivamente una mancanza, per una squadra che vuole vincere in un campionato molto molto corto come questo, è una mancanza abbastanza importante. Ecco, abbastanza importante. Di Bramante Teramo si sapeva, si sa, che è una squadra che darà figlio da torcere a tutti, perché è una squadra che ha un'identità molto molto chiara, una squadra che va, che corre, che ha atletismo, che ha fisicità, magari non avrà talento straordinario e soprattutto non ha le certezze che l'hanno portato a salvarsi l'anno scorso, cioè Bruno Duranti, fuori categoria, Zanetti, il giocatore che ha fatto super bene, ma occhio a Mazzagatti, perché mi sembra un giocatore veramente molto interessante, occhio a occhi, questi qua, appena capiscono un pochettino cosa devono fare per vincere, diventano una squadra ostica per tutti, e la classifica, Paia sta lì, sta lì tutta la vedere, perché tu ogni domenica, come ho detto prima per la B1, puoi aspettarti dei risultati assolutamente senza senso, apparentemente senza senso, perché è un campionato super super livellato, complice anche alcuni errori di costruzione, chiamiamoli così, di alcuni big sfortune, chiamiamoli così, però è un campionato più aperto anche nella vetta di quello che era lecito aspettare, ma ben venga così, per noi squadre di mezza classifica, ovviamente come Senigallia, che ogni domenica riesci ad andare a crederci. Per quello che riguarda Val di Ceppo, Paia, Val di Ceppo, immagino che clima ci attenda domenica, che andiamo sul loro campo già non facilissimo, diciamo di suo, dopo una sconfitta, comunque al di là del risultato finale, un po' levigata dal risultato finale, una sconfitta abbastanza netta, contro Nave Canati che in casa, soprattutto va col pilota automatico, e una Val di Ceppo che in casa è una roba al limite, è una roba per vincere il campionato, cioè Val di Ceppo in casa, top player per vincere il campionato, in trasferta lascia qualcosina ogni tanto, però Val di Ceppo sta mettendo in mostra il Ratt migliore di sempre da quando è che lo conosco e lo conosco da una vita, nettamente la miglior versione di Ratt, Mozzi mi sembra un giocatore molto molto solido per la categoria, non bellissimo da vedere ma molto solido, lo straniero che gli sposta tanto perché gli apre il campo in maniera impressionante, poi tutta una serie di atleti che vengono... Ci aggiungo Corradossi, Capri, che aveva fatto i buchi l'anno scorso in Serie C in Toscana e che ovviamente non si sta confermando a venti di media, però sta facendo delle ottime cose si è dimostrato di un giocatore che in questa categoria ci sta alla grande come tre. Assolutamente sì, ripeto, squadra fisica, squadra che mette tanta pressione sulla palla, squadra che anticipa fino a metà campo, squadra oggettivamente molto difficile. E appunto, sicuramente una delle candidate a quel sesto posto a cui ambiscono in tantissime, è stato un weekend però in Serie B2 caratterizzato dalle vittorie esterne, ce ne sono state ben tre e alcune anche molto importanti ma prima di tutto quella di Ozzano sul campo di Porto Recanati perché comunque era una sfida tra due delle ambiziose di questo campionato e entrambe se parliamo di cantieri aperti almeno a livello tecnico lo sono entrambe e Ozzano sta facendo vedere che però ora al completo è in grado anche di andare a vincere queste partite contro una squadra che è vero sta faticando come Porto Recanati ma che comunque lì al Palamed insomma ne perde poche tendenzialmente un'altra vittoria sorpresa sicuramente è quella di Roseto sul campo del Loreto Pesaro l'altra squadra che sta facendo fatica invece a trovare a trovare continuità e poi appunto la vittoria di Senigalli a Castel San Pietro vittoria comunque importante perché in generale è sembrato che in questo campionato vincere fuori casa non sia mai banale al di là di questo turno in cui sono uscite tre vittorie fuori casa però in generale tutte in casa sembrano in grado di poter comunque non sempre perché è impossibile però sempre provare a portarla a casa ecco quindi tre vittorie sicuramente di peso io quello che sto vedendo poi le guardo tutte tanto analizzo due squadre per settimana quindi bene o male le guardo tutte quello che sto vedendo è che veramente è un campionato dove magari il talento ti dirò che forse come punte di talento ce n'eravano più l'anno scorso ok parlo proprio dei giocatori fuori categoria dei giocatori che magari ti cambiavano ti vincendo le partite da sole però a livello di costruzione le squadre sono tutte molto 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 solide tutte nessuna esclusa e ogni vittoria ma non è un caso trasferto ovvio che quelli in trasferta valgono 4 6 8 ma ogni vittoria veramente ogni domenica diventa un'impresa titanica perché non c'è una favorita chiara cioè ad oggi non ti dico che la favorita è Recanati pur essendo prima non posso dirtelo ovviamente perché ci sono tante squadre ancora da vedere tra un mesetto io ritengo che Ozzano debba sistemare due robe difensive ma abbia comunque la coppia di 1-2 più forte del campionato perché Piazza Piazza ragazzi borseggia la gente in B2 con una facilità che faceva in A2 in B2 proprio porta via le palle e anche Terracoy c'è stato un paio di momenti domenica ho portato le cadi sabato visto la partita in diretta in cui Piazza porta via la palla dal palleggio ma io ho fatto fatica ad accorgermene per dirti poi ovviamente i lampi di Cortese quelli di Ranuzzi c'è talmente tanta qualità nei singoli poi Cortese con la B2 non c'entra niente Cortese è capace di spararti 3 su 3 a 3 punti in un minuto da 9 metri con due uomini addosso e fai fatica Ranuzzi un giocatore troppo esperto troppo scafato e ripeto e ho visto Ranitucci pigliare le cazziate parliamo del top player dell'anno scorso ok in una squadra dove era praticamente da sola però era top in tutte le categorie punti rimbazia era dappertutto prendere cazziate a destra e sinistra perché perché intorno c'è gente che ha fatto la serie A fino a ieri mattina e quindi io continuo a dire che questa Ozzano difensivamente deve migliorare lo sanno anche loro ma mi sembra una squadra molto 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 competitiva per quello che riguarda Porto De Canati la notizia è sicuramente sono due notizie da punto di vista tecnico punto primo Cicconi Massi seduto tutto il quarto quarto e mi sembra un messaggio abbastanza chiaro con Mancini a giocare e mi sembra un segnale per lo meno da accogliere in questo momento Mancini probabilmente per intensità per attitudine sappiamo benissimo che Cicco è un giocatore di livello superiore alla B2 però spesso e volentieri ha dei momenti di down di up and down all'interno anche di una stessa partita e vederlo seduto tutto il quarto quarto è una partita punto a punto è indice sicuramente di una scelta l'altra scelta a me Gabri sembra che di questa Porto De Canati manchi chiaramente un quattro che apre il campo perché Cicconi Massi non lo può essere per caratteristiche Mancini forse alla fine nel tempo è diventato addirittura più tre di quanto non era lo scorso anno e poi negli anni scorsi e poi soprattutto può segnare da tre punti può aprire il campo ma non è forse la sua dote principale quindi manca proprio il Rinaldi che era nel programma l'anno scorso e fa fatica ad andare piccola poi fa fatica ad andare piccola e l'altro problema ovviamente Ciri Beni che in questo momento sta facendo l'appoggio grande difficoltà non so se insomma Leo lo conosciamo tutti un ragazzo super quindi grande professionista però in questo momento in attacco non fattore e anche in difesa onestamente è lui è sempre stato un cagnaccio di quelli grossi sta mancando dal suo apporto lui è un giocatore che scende dalla B1 da cui è lecito aspettarsi molto di più in questo momento Porto dei Canti è montanari dipendente non può uscire mai perché è l'unico che crea qualcosa realmente dal palleggio eccetera eccetera ed improvvisamente si ritrova con Gamazzo molto più marcabile perché? perché gli vanno addosso in quattro vanno addosso in quattro anche in questo Gavri servirebbe un quattro perimetrale perché poi allarga gli spazi infatti stavo guardando lì da te Gamazzo in questo momento se ne trova addosso tre o quattro per volta e quindi anche lui fa fatica a ripetere con continuità le straordinarie prestazioni dell'anno scorso resta per me un giocatore da B1 comoda però in questa conformazione qua il coach Scalabroni secondo me avrà il suo bel da fare come parlando di miei amici anche Cecca ha il suo bel da fare con Loreto Pesaro che in questo momento è sicuramente al di sotto del par delle proprie ambizioni delle proprie costruzioni però secondo me anche qua c'è un qualcosa che manca ci sono due giocatori come Broglie e Aglio che dal punto di vista fisico sono molto molto simili uno è chiaramente molto più attivatore l'altro più interno due scienziati della pallacanezza soprattutto Giorgio però qualche anno in più e soprattutto manca una dimensione realmente verticale in questa squadra proprio di verticalità ok è una squadra che non riesce a fare tantissimo contropiede proprio perché mancano della gente che prenda corre e vada ok che magari possa stare al ritmo di Battisti che Battisti è uno che ha sempre corso nella vita uno che piglia lancia e va e manca qualcuno tanto che Loreto va spesso e volentieri con Tognacci nel 4 proprio per allargare gli spazi per liberare Belfino Alto che sta facendo una fatica bestia Tognacci dall'1 al 4 praticamente per forza perché così se tu pensi che rispetto all'anno scorso ha perso gente che in questo momento ti darà in B1 Casoni Rupil Maruca è una squadra che onestamente rispetto all'anno scorso ha fatto un downgrade ma d'altronde se tu lo sapevamo d'altronde sulla carta che fosse un downgrade lo sapevamo sulla carta il problema è che in questo momento ci si aspetta un cambio di marcia anche qua io ci gioco tra poco se volete cambiare marcia non è assolutamente un problema perché poi queste sono squadre che arrivano il tempo di conoscersi un po' arriva chiudo con la vittoria a Senigallia che ho visto dalla panchina Senigallia sicuramente invece rientra in quel numero di squadre che non avendo una pressione di alcun tipo e non avendo un obiettivo bisogna arrivare sesti per salvarsi subito ma anche se non si dovesse arrivare si è consapevoli però è piena di atleti una squadra che è molto molto verticale una squadra che è molto molto intensa io non smetterò mai di dire che Giovanni Savlice è un giocatore straordinario io lo dico tutti i giorni Pietro Savlice arriverà e poi se tutto questo ci metti che Fabione Giampieri ormai gli giocano tutti per non farlo tirare ma com'è com'è quando c'è da mettere una bomba decisiva tende a metterla Giacomini è una fuori serie e lo sappiamo Landoni ha litigato tre quarti verosimente con se stesso sbagliando delle cose a caso salvo poi come sempre fare la differenza nel quarto quarto mettendo le difese ma anche le difese decisive ecco è una squadra Senigallia piena di atleti piena di atleti e con un buon mix di giocatori esperti quindi se Giacomini va davanti ne trova due solitamente due barra tre perché anche Tambu che domenica non c'era insomma ha vent'anni mal contati è un altro atleta e quindi anche lo stesso venga che sicuramente è in una condizione fisica migliore è uno che va che ci dà che corre undersize però che va rimbalza prende salta va e questa paia è la dimensione che in questa B2 fa la differenza ma dall'anno scorso devo dire che ce ne eravamo accorti e appunto si torna in campo nel fine settimana anche in serie B2 recap velocissimo delle partite appunto del fine settimana sabato Ozzano Bramante e Roseto Reganati questo è pure molto molto interessante perché appunto Roseto si è rimessa in moto in questo fine settimana poi domenica altra partita molto interessante Civita Navaporto Reganati un banco di prova un po' per tutte e due Val di Ceppo Senigalli a Castel San Pietro Loretto Pesaro e Matelica che ospita invece la Mediterranea Teramo noi chiudiamo anzi restiamo in serie interregionale con il nostro ospite di questa settimana che è uno dei senatori della capolista della palla canestro Reganati Gianni Sabatini andiamo ad ascoltarlo Nel nostro ospite questa settimana abbiamo il giocatore della Svezia Reganati Gianni Sabatini grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto Ciao e grazie a voi per avermi invitato e appunto parliamo della capolista attuale del campionato del Gironie del campionato di Serbiente regionale un grande inizio di stagione da neopromossa non era sicuramente scontato farlo ve lo aspettavate invece voi? Ma guarda sinceramente io no non me lo aspettavo anche col fatto che per me è un campionato nuovo ecco quindi non avevo fatto grossi pensieri però ecco abbiamo abbiamo vinto quattro partite su cinque quindi molto bene così sono sicuramente soddisfatto quali sono state ovviamente da neopromossi ovviamente cambia il livello tecnico cambia il livello di fisicità credo nel salto da una serie all'altra qual è stata la difficoltà maggiore nell'adattamento appunto della nuova categoria? allora sì sicuramente a livello fisico a livello fisico ho riscontrato diciamo fisici più prestanti anche che ho incontrato ecco anche la velocità di gioco in confronto a una serie C anche il modo di pensare diciamo c'è sempre meno quel secondo in meno c'hai rispetto a un campionato di livello in meno questi diciamo i due punti più che ho riscontrato ecco più che hanno fatto la differenza ripartivate da uno zoccolo duro di fatto importante della squadra che l'anno scorso comunque aveva fatto strabene in serie C pensi sia stato determinante appunto in questo grande inizio ripartire già da un nucleo che si conosceva già di fatto sì sicuramente questo sicuramente tanto penso che la forza del gruppo è fondamentale anche la questione che c'è appunto tra i giocatori il fatto che abbiamo già giocato un anno insieme la maggior parte di noi abbiamo avuto la possibilità di conoscerci meglio e poi ecco con la vittoria del campionato con tutte quelle vittorie dell'anno scorso sicuramente sì ci ha aiutato ci ha aiutato molto anche per i nuovi ragazzi che si sono integrati quando c'è già il gruppo diciamo formato è più facile integrarli e anche per loro integrarsi peraltro a maggior ragione appunto questo discorso è stato è stato anche di fatto puntellati dal problema Gurini ne abbiamo parlato non entriamo nel merito ovviamente della vicenda però vi ha costretto comunque a risettarvi ricalivrarvi inserire un giocatore in corsa come è stato questo passaggio sia a livello di gruppo che a livello tecnico sì esatto Gurini per noi è un giocatore fondamentale quindi però come anche ti ho detto il fatto del gruppo che già si era creato che era pronto e tutto anche per Edoardo penso sia stato anche per lui più semplice integrarsi e iniziare a giocare con noi Gabri ma allora vi augurini tu ti sei trovato titolare con un minutaggio magari anche superiore rispetto a quello che era previsto all'inizio stagione tutto sommato secondo me hai risposto bene come è stato quel momento perché poi alla fine parliamo di qualche giorno in cui ti sei trovato da un ruolo ad un altro come l'hai vissuto? allora sì diciamo che no ne ho approfittato anche ecco per avere qualche minuto in più appunto per me è un campionato nuovo quindi mi devo ancora un po' assestare e lo dichiara mi ha permesso di fare qualche minuto in più partito anche in quintetto insomma contro noi anche con una certa importanza hai sentito un po' questa virgoletta responsabilità sì sicuramente questa responsabilità l'ho sentita ho cercato di sfruttarla al meglio e e niente ecco ecco mi devo ancora un po' assestare al campionato questo sì ne sono consapevole ma ci sto lavorando e mi stanno anche aiutando sia compagni che allenatori bravo lì volevo arrivare tu hai la fortuna di avere veramente un gruppo di califti del campionato Lollo Magro Simo piuttosto che Mutis che ho fatto anche insomma categorie fuori categoria per i nostri campionati cosa ti stanno dicendo se ti stanno pilotando se ti stanno aiutando se ti stanno dando una mano quali sono i consigli principali insomma sì loro mi aiutano molto diciamo con questa fortuna che mi alleno con loro riesco anche durante gli allenamenti a prendere i loro consigli e a rubare soprattutto con gli occhi da quello che fanno in campo questa diciamo è anche una mia dot di cercare di rubare con gli occhi vedere in campo quello che fanno gli altri e poi riprovarlo riprovarlo io nel campo e sì loro loro sono dei veterani nella categoria e devo ancora imparare molto ma ma mi stanno aiutando questo sì senza dubbio c'è un consiglio o una cosa che ti è stata detta che diciamo hai preso subito e ti ha fatto non dico svuotare però ti ha aiutato molto una cosa che ne so dico una cavolata blocca con questo angolo piuttosto che un altro sto dicendo le robe a caso ovviamente c'è una cosa che ti ricordi dici che ti è rimasta insomma tirare con convinzione questo sì l'ho imperato già diciamo più l'anno scorso di tirare con convinzione quando ho spazio di prendermi la responsabilità e e di tirare senza la paura di magari sbagliare il tiro o ecco questo ti senti più un 3 da B2 o un 4 da Serie C bella domanda ma dai ti dico un 3 da un 3 da B2 un 3 da B2 è un ruolo che il 3 da due anni che che lo faccio diciamo io alle giovanili non l'ho mai fatto un asco play ho giocato sempre a playmaker poi ho avuto la fortuna di crescere 20 centimetri in un anno a 19 anni e mi sono trovato anche a giocare da 5 ho giocato da 5 e poi salendo in categoria sono ho avuto la fortuna di di riprendere la palla in mano e non di di portare i blocchi ecco però diciamo che mi sento più un 3 da B2 dai senz'altro ottimo Paglia particolare mi rilaccio proprio a questo perché era una quasi domanda che volevo fare nel senso che stavo riguardando un po' indietro online qualche articolo vecchio qualcosa di insomma di uscito negli anni su di te su Gianni Sabatini quindi spesso nelle descrizioni c'era scritto appunto pivot invece tu dici che nasci come playmaker passi a pivot poi è un percorso tecnico molto particolare il tuo ce ne parli un po' da questo punto di vista cioè approfondisci un po' il discorso sì allora io ho fatto tutte le giovani lì qua sempre a Reganati e ho giocato sempre da playmaker diciamo poi tra i 18 19 anni così non so che mi è successo ma ho preso 20 centimetri ho esatto ho sviluppato e niente poi sono andato a Castelfilardo gli servivano un 5 e mi ha detto se vuoi puoi giocare da 5 io ho sempre preferito giocare e quindi mi sono ritrovato ecco così a giocare da 5 ma essendo sempre un po' più magrolino mi trovavo a prendere i 5 di 100 kg e facevo un po' di fatica per fortuna ero agile quindi compensavo ecco e poi niente ho fatto una mezza stagione all'acqua lagna causa covid perché studiavo su a Urbino ho studiato scienze motorie poi sono rientrato e è nato diciamo qua all'amore con con la mia città con Recanati proprio a livello tecnico poi dal ritorno a Recanati che sei diventato diciamo hai iniziato a giocare da 4-3 tra virgolette sono tornato sì giocandosi da 4 esatto poi dall'anno scorso anche due anni fa un po' mi ero allenato a giocare da 3 e devo dire che non mi dispiace sì esatto è sempre meglio sempre meglio tenere la palla in mano piuttosto che che farsela passare bella questa ultima poi ti lasciamo in estate hai fatto anche una scelta particolare l'anno scorso la vittoria del campionato da capitano in estate hai deciso di lasciare la fascia Lorenzo Andreani scelta un punto particolare ce ne parli delle motivazioni come è nata la cosa insomma come vi sarete parlato immagino per farlo guarda parte la soddisfazione enorme l'anno scorso della vittoria vittoria del campionato per me è stato bellissimo e poi come avete detto anche voi l'esperienza lui ha molto più esperienza sia in campo che fuori dal campo in spogliatoio quindi mi è sembrato più che giusto dargli la fascia da capitano anche perché per me è una categoria che non avevo mai fatto quindi giù che è giusto questa scelta di passaggio ok ti fa onore perché comunque riconoscerselo poi non è mai scontato io ti ringrazio Gianni e bocca al lupo per questa cavalcata che avete iniziato grazie grazie mille vi saluto ciao ci vediamo sui campi ciao ciao ed era Gianni Sabatini ala della Svezia Recanati ci tuffiamo sul campionato di serie C campionato di serie C dove iniziano un po' a sgranarsi i valori sono rimasti in quattro imbattute dopo tre giornate e sono come dicevamo la scorsa settimana un po' quelle che tutti indicavano come le squadre che potessero essere più attrezzate in primis Forlimpopoli che ha messo giù una prova di forza mica da ridere andando a vincere di 40 Osimo che era una cosa mai banale da fare a qualsiasi a qualsiasi livello poi ci sono Sant'Arcangelo che è andato a vincere a San Marino e anche in quel caso non è mai banale nonostante il titano di quest'anno non sia quello degli scorsi anni e poi delle nostre ci sono la Bartoli Mechanics Metauro che invece ha colto l'occasione vincendo senza problemi contro i ragazzi della Stamura e quella che è stata invece forse la partita più interessante del fine settimana la vittoria in rimonta di Urbani a Montegranaro Urbani che era finita sotto di 20 addirittura nel primo quarto 29 a 9 parziale incredibile della Sud che però alla lunga ha mostrato il fianco anche perché è veramente ridotta all'osso a questo punto la squadra di gocci cervellini che ha perso Felicioni per un paio di mesi per un problema al ginocchio rientrava Passarini proprio domenica ed era stato quasi decisivo con i canestri che avevano rimesso in carreggiata la Sud poi nel finale ovviamente è mancato qualcosa ai gialloblui Urbani e viene fuori con un'altra vittoria importante in un altro scontro diretto ed è sicuramente la squadra sorpresa no però a quella che fino adesso non ha sbagliato un colpo e ce lo si poteva aspettare ma anche no insomma dalla squadra di gocci donati che però ecco ci dimostra ancora una volta che è un signor allenatore per questa categoria a voi per questa categoria sicuramente sì Urbani che ha cambiato anche un po' pelle con questo mix tra giochi e giocatori esperti e mi ha parlato la settimana scorsa con il nostro ospite quindi senza che ci addentriamo ancora conferma quanto di buono già detto e visto per quello che riguarda la Sutora onestamente in una squadra con già tante scommesse gli vai a togliere una delle poche certezze ovvero Matteo ci stanno anche scivoloni così Paia onestamente ci può stare insomma ci può stare è sempre brutto quando vai avanti di 20 però ha maggior ragione squadra squadra giovane ci può stare che poi che poi si incarti insomma tra l'altro sta mettendo in mostra un Canturec di un certo livello questo Sutora insomma un ragazzo che potrebbe anche essere interessante al piano superiore per come lo stiamo vedendo per come lo stiamo vedendo adesso insomma quindi ripeto anche per dirti lo stesso Savelli a livello di produzione offensiva uscito un po' dalla zona nord di Ancona sembra essersi un pochettino smarrito è cambiata un po' l'aria però è ovvio che da lui adesso bisogna aspettarsi un cambio importante anche in termini di produzione offensiva qualche responsabilità in più e quindi lo vedremo di Osimo c'è poco da dire nel senso che è una non partita contro una squadra sicuramente molto più forte ma una non partita è sempre un brutto segnale quindi andrei abbastanza veloce e l'altra l'altra notizia è quella comunque di una Santa Empirio che continua ad essere relegata in fondo alla classifica certo manca ancora Rupil per carità assolutamente una Santa Empirio però questa è una squadra che affrontava un'altra squadra diretta concorrente che ha trovato un Maggiotto versione Maggiotto quindi era ora era nell'aria dopo voglio dire lo sapevamo lo sapevamo tutti però ecco è una squadra che Santa Empirio manca probabilmente dell'identità difensiva e conoscendo Vallasciani mi sa che due o tre cose le potrebbe dire insomma è una squadra che piglia 80 punti da lui da Torresi da questa gente qua che sono degli agonisti difensivi immagino ci tengono particolarmente che sia una cosa sistemare ma dal Tornevato merito anche al Pisarum che onestamente è un'altra di quelli che finirà nelle parti nord o paglia della classifica del Metauro ormai leggiamo i tabellini solamente per capire chi è il prossimo Santi nel senso per capire ma con la massima ammirazione chi sarà il prossimo che magari no può provare in un campionato di C paglia che invece ecco a differenza di quello che magari è B1 e B2 i valori si iniziano già si iniziano già ad intravedere tra l'altro non si è giocata nello scorso fine settimana Castelguelfo Falconara per i noti problemi meteorologici l'alluvione che ha colpito il bolognese appunto per evitare i problemi è stata rinviata alla partita chiude il quadro la vittoria della Taurus che invece sta avendo alti e bassi abbastanza paurosi dopo il il meno 35 se non sbaglio rimediato contro Falconara è arrivata invece una vittoria importante e preziosa a domicilio contro il Real Basket Club Pesaro quindi contro i ragazzi dell'Under-19 pesarese sostanzialmente e anche loro appunto stanno pagando un po' lo scotto dopo l'iniziale vittoria a Osimo che forse aveva un po' in parte il luso anche noi tra virgolette e poi è venuto fuori quella la mancanza di esperienza a questo livello che qualcosa di stanno competendo comunque sempre però qualcosa insomma è evidente che manchi ecco arriveranno arriveranno state tranquilli la seconda parte di stagione questi arrivano con i treni sicuro fanno fanno bene perché tutte le squadre che fanno riporto una citazione di Coach Petito ne parlavamo ieri tutte le squadre che fanno un percorso di eccellenza comunque alla fine della fiera i ragazzi li vedi insomma li vengono fuori e arriveranno non è una frase fatta mentre nella Taurus voglio segnalare per la serie faccio un passo indietro per provare a fare un avanti un super Zandri capitano protagonista sta facendo molto molto bene si è visto anche Sanna la prima prova offensiva da Sanna come è lecito aspettarsi in questa C però ecco chissà che anche per Zandri un ragazzo che ha tutto a livello fisico per poter stare in una B2 non possa essere un'idea l'anno prossimo perché alla fine questa C spesso e volentieri si è dimostrato vedi tra vice e vice a Civitanova una buona vetrina per poi provare l'anno prossimo a salire e nel prossimo fine settimana ci sono diverse partite interessanti tra cui sicuramente Forlimpopoli Metauro e il Derby Sant'Elpidio Montegranaro noi siamo in coda a questa puntata di Inmarcabili se ci state guardando siamo su FM TV canale 75 del Digitale Terrestre oppure su YouTube al nostro canale Inmarcabili TV dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti la versione podcast su Spotify o su Apple Podcast un ringraziamento a Basketmark e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme l'appuntamento è per la prossima settimana sempre qua su Inmarcabili Pierini il tiro e il canestro di Artiglio Pierini il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area di Artiglio Pierini che c'è di Artigio Cap che c'è di Artigio Cap